amici quest'oggi niente live perché tra pochissimo devo scappare ma non vi abbandono perché il video con l'analisi della situazione di bitcoin e delle principali altcoin nonché le notizie e le pillole più interessanti di questi giorni non ve lo posso far mancare nemmeno il 31 di dicembre quindi voletemi bene a parte questo andiamo a vedere come chiude l'anno bitcoin da un punto di vista macroscopico quindi cerchiamo di non distrarci con i movimenti di breve ma ci concentriamo appunto sul lungo periodo e andiamo a vedere gli scenari possibili per il 2022 e quelli che mi sembrano più probabili vi faccio già un piccolo spoiler non la vedo così male inoltre andiamo a vedere anche quelli che potrebbero essere i principali trend lato altcoin quindi quali cripto stanno si stanno svegliando quali potrebbero essere protagoniste dell'anno 2022 in parte ne abbiamo già parlato ma andiamo sempre ad approfondire queste tematiche che so vi interessano e vi stanno molto a cuore quindi basta chiacchiere io vi faccio già gli auguri in anticipo di buon 2022 che vi possa portare sempre to the moon con insieme a me magari andiamo tutti insieme to the moon e adesso andiamo torniamo sulla terra invece e andiamo a vedere due grafici e due notizie seguitemi buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti partiamo con una bella analisi della situazione di bitcoin ma non sul giornaliero che è sempre come l'abbiamo lasciato ma di ampio respiro allora andiamo a vedere innanzitutto come chiudiamo questo anno non so se avete mai fatto il gioco l'esperimento di guardare le candele annuali guardate come il grafico va a ottenere dei connotati completamente diversi la candela di quest'anno se compressa in un'unica candela mostra diciamo parimenti domande offerta abbiamo un trend chiaramente ascendente un trend in crescita dominante già da qualche anno che mostra i primi segni diciamo di smorzamento il che non vuol dire che si deve invertire ma vuole semplicemente dire che al momento c'è un po di pressione in vendita questa candela è più o meno per adesso 50 per cento body e 50 per cento shadow quindi una candela abbastanza equilibrata ma chiaramente con prosecuzione rialzista perché ricordiamolo è verde cosa non da poco per andare a vedere un po meglio la situazione possiamo scendere al mensile il mensile ci mostra in modo molto chiaro quella che è la situazione macroscopica dell'ultimo periodo guardate il trend si conferma sempre crescente tra l'altro con anche delle accelerazioni notevoli l'ultimo periodo vedete a partire proprio da primavera estate di quest'anno abbiamo i primi segni di offerta quindi abbiamo un attimino di equilibrio non parlo di inversione ribassista ma parlo di equilibrio perché come vedete vedere un'inversione ribassista qui dentro ci vuole un bel po di fantasia abbiamo il primo dump di maggio abbiamo le ultime due candele rosse degli ultimi due mesi che però come vedete sono molto più deboli rispetto al dump di maggio stesso il che vuol dire che anche l'offerta non è che sta bastonando più di tanto perché se lo andate a comparare con i top del passato in realtà questo non è neanche considerabile un top perché era comunque un lower high comunque vedete che l'offerta non dà particolari respiri bastona poi magari c'è una candelina verde di domande poi un'altra bastonata dell'offerta al momento invece è evidente che ancora la domanda a predominare dopo il primo attacco dell'offerta abbiamo avuto comunque una candela verde che ha fatto seppur di poco un higher high chiamiamolo pure equal high se vogliamo siamo sempre in questa zona dei 60 65 mila dopodiché l'offerta si ha reagito ma ha reagito come vedete con debolezza non non ha tirato un'altra bastonata facendo un lower low e quello è ciò che mi ha rincuorato no è ciò che mi tiene saldo alla mia visione ancora di equilibrio parlo di equilibrio e non bullish perché comunque questa situazione si deve risolvere al momento alle sembianze di questo triangolo rialzista però ovviamente finché non viene risolto a rialzo o a ribasso che sia non possiamo dire cosa succederà pertanto è proprio da qui che parto per immaginarmi quelli che possono essere gli scenari dell'immediato futuro come supporto adesso questo è il grafico di bit stamp ma è di solito uso quello di ftx che ha più volumi però il su un time frame mensile le cose non cambiano guardate possiamo riprendere l'altro se preferite è che qui ci sono un po più di livelli e quindi c'è il rischio che sia un po più confuso guardate riprendo quello di bit stamp non me ne vogliate così ripartiamo da zero su questo time frame con l'analisi abbiamo guardate lato mensile un cluster qua questa candelina rossa di per sé forma un supporto che al momento ha tenuto poi chiaramente abbiamo il nostro low qua sotto che è ciò che deve tenere assolutamente se vogliamo conservare questo questa struttura di equilibrio se perdiamo questo low quindi scendiamo sotto i 35.000 la cose le cose cambiano e abbiamo qui sì purtroppo un costrutto di top quindi mi raccomando questo livello deve assolutamente tenere e tra l'altro questo ci si evidenzia molto bene anche da un punto di vista settimanale dove abbiamo visto che ci sono uno e due low che finché tengono ci ci piace insomma perché se tiene questo low abbiamo una situazione vedete sempre di higher lows se perdiamo questo low purtroppo lato settimanale facciamo addirittura un lower low e andiamo quindi ad attaccare di nuovo quest'ultima zona che è il se ci pensate è anche il prezzo medio di carico di michael sailor pensate cosa può succedere anzi ve lo chiedo secondo voi cosa potrebbe succedere se pure michael sailor andasse in perdita damperebbe cosa cosa potrebbe fare rischierebbe il default sta di fatto che si evidenzia su tutti i time frame superiori al giornaliero quindi quelli un po più ampi l'importanza fondamentale di questi due livelli ritorniamo adesso di là sul mensile visto che stavamo analizzando lì e quindi dicevo 35.000 è il supporto finale lato mensile vedete potremmo fare un range anche se andiamo qui una cosa di questo tipo ma ovviamente rimane una cosa migliore una struttura migliore se questo cluster questo livello di domanda tiene botta perché perché continuiamo lungo quest'altro scenario questo scenario è il migliore ok a patto che quindi qua la domanda faccia il suo corso ci fa rimbalzare e poi andiamo a risolvere il pattern con una rottura e con nuovi massimi questo pattern avrebbe fatto sì che se ci pensate tutto il 2021 è stato un anno di accumulazione non è stato un anno di bull market folle oddio febbraio e marzo in verità sì però ha più è più stato un culmine del ciclo precedente poi la maggioranza dell'anno anche se ripensandoci non sembra è stato in in trend laterale in trend di equilibrio pertanto con un anno di lateralità si creano delle basi estremamente solide nel caso in cui volessimo fare un'altra leg up purtroppo lo stesso vale se andiamo a perdere i livelli chiave se andiamo a perdere questo livello ve l'ho detto niente di gravissimo andiamo ancora 35.000 si indebolisce tutto rallenta ancora tutto ma poi c'è la vera prova del 9 con questa zona vedete c'è liquidità qua sotto quindi deve tenere deve anche tenere bene perché non vorrei poi vedere un lower high e andare a fare una cosa di questo tipo perché altrimenti se andiamo a cambiare il tutto in un triangolo ribassista ahimè le probabilità shiftano si spostano a favore di un costrutto di top e un costrutto di top così grande e duraturo non lo auguro a nessuno quindi attenzione a questa possibilità poi di altro che cosa abbiamo abbiamo la possibilità peggiore in assoluto quindi quella di andare subito a perdere i 35.000 e lì ripeto abbiamo fatto un costrutto di top bello grosso con doppio massimo lateralità range e quindi ahimè ci aspetta probabilmente un 2022 a trend ribassista e molto noioso alla ricerca di un bottom chiaramente quindi ci auguriamo tutti mi raccomando tipo energia sferica adesso mettiamoci tutti lì a concentrarci affinché si verifichi questo scenario che è il migliore quindi domanda sui 46 perché per ora è il più improbabile vi ricordo perché guardate com'è la struttura domanda quindi sui 44 46 una bella un bel rimbalzo andiamo di nuovo ad attaccare i massimi e cerchiamo di far sì che la domanda prevalga e di avere un bel breakout in tal caso il 2022 sarebbe un gran bell'anno ragazzi miei un gran bell'anno al di là di questo abbiamo alcuni trend da non sottovalutare e adesso direi che li possiamo andare a vedere allora uno di questi riguarda curve riguarda convex ormai l'abbiamo capito che al momento è ciò che è sotto i riflettori ci arriviamo tra poco perché vi ho portato alcuni approfondimenti interessanti nonché altri protocolli che vale la pena tenere d'occhio però una cosa è certa curve convex curve wars tutto quel mondo lì al momento è sotto i riflettori e sta iniziando ad emergere anche non dico diventare mainstream perché chiaramente è la nicchia nella nicchia nella nicchia però ormai se ne parla già abbastanza quindi stanno emergendo alcuni protocolli che sono un po uno step avanti no e adesso li andiamo a vedere ma prima di andare a vedere queste notizie questi approfondimenti vi voglio mettere un po di hype per il 2022 perché al di là del mercato rialzista o ribassista che sia noi abbiamo avuto risultati pazzeschi in quest'anno abbiamo fatto tantissime cose insieme grazie a voi è nato un team molto coeso all'interno di decrypto gateway e sono veramente fiero di questo credo che all'inizio del 2022 farò proprio un video dedicato al primo anno di decrypto gateway come come azienda perché l'azienda è nata a marzo del 2021 e in un anno sono successe veramente tante tante cose e ne parleremo ma adesso vi voglio solo buttare lì un teaser che il 2022 inizierà con una bomba che vi ribalterà dalla sedia quindi mi raccomando non rimanete indietro con il corso di defy che vi ricordo è disponibile gratuitamente sul mio canale ho fatto anche la bella playlist perché a breve vi butterò fuori tanti di quei contenuti che ragazzi vi giuro avrete da studiare da qui a non so quanto tutti in italiano tutti i contenuti originali tutti approfonditi e ragazzi tutti gratuiti sapete che la mia filosofia è questa abbiamo lanciato le formazioni one to one recentemente dedicate a chi vuole approfondire a chi vuole parlare con una persona e fare domande ma vi dimostro vi continuo a dimostrare che non faccio contenuti e non continuo a fare video solo per vendere queste formazioni e l'ennesima dimostrazione sarà proprio questa quindi state gasati perché lo iniziamo molto bene l'anno e vedrete vedrete già dai primi giorni dell'anno nuovo vi inizio a gasare come si deve quindi sul pezzissimo e poi cos'altro abbiamo di bello niente qui alla timeline di twitter ecco in realtà adesso vi volevo parlare di alcune cose partiamo proprio col discorso curve wars ed intorni allora su curve stanno arrivando sempre più pool versione 2 che sono i pool misti il primo era il tricrypto e da lì poi perché inizialmente erano solo vedete pool con asset equivalenti come stable coin come rem btc vbtc sbtc insomma quelli pegati l'uno all'altro in qualche modo crv cvx crv e così via al momento cioè al momento adesso già da un po ci sono i v2 che sono dei pool simili a quelli di balancer per dire e che contengono più asset quindi neanche per forza due asset anche tre o volendo più di tre e non per forza di cose tutti pegati tra loro quindi una versione fatta bene di uniswap per capirci infatti il suo principale competitor è proprio uniswap la v3 che è efficace è molto efficiente come liquidità ma non possiede i pool tripli al momento e quindi curve verso suniswap è un po la battaglia per la defi ma curve la sta vincendo alla stragrande perché la liquidità si trova su curve e lo dimostrano i dati oggi è stato lanciato un nuovo pool v2 l'ho perso in realtà eccolo qua quello con l'oro xout tether gold che insomma so che qualcuno è un po scettico su tether io personalmente non più di tanto e è un pool con dentro le tre stable coin e l'oro quindi xout è peggato all'oro abbiamo un 50 per cento in xout e un 50 cioè 48 49 un 52 per cento in tre crv che sono le tre stable coin quindi si può andare a mettere a rendita di fatto l'oro la tether gold all'interno di questo pool e quindi io mi aspetto che tra non molto il buon vecchio convex andrà a fare il suo vault proprio qua perché guardate ricompense in crv sono galattiche per il momento ma il motivo è che si deve ancora riempire di liquidità quanta ce n'è adesso di liquidità 5 milioni e secondo me aumenta almeno di un ordine di grandezza quindi le ricompense decrementano allo stesso modo però questi pool v2 che arrivano così silenziosi no con asset di questa portata attenzione perché non fanno che rafforzare la dominanza di curve quindi curve wars l'abbiamo capito non ve ne riparlo non vi rispiego cos'è è il dominio per votare su curve le direzionamento delle ricompense e in questo in questo contesto stanno emergendo alcune piattaforme interessanti allora io vi ho già mostrato tutto ciò che riguarda il discorso liquidità quindi abbiamo parlato di tokamak abbiamo parlato di redacted come fork come in realtà propagine ufficiale di olympus dao dedicata proprio a ottenere i token di governance e adesso vi volevo far vedere anche queste due piattaforme allora concave che non si capisce cosa sia di preciso ma se voi andate sul loro discord credo di avervelo già fatto vedere allora in realtà ci sono già dentro quindi vediamo se me lo apre semplicemente oppure no e se voi andate sul loro discord loro fanno vedere come hanno a che fare in qualche modo con tutto questo discorso ma non vogliono essere particolarmente espliciti vogliono soltanto far capire che il loro obiettivo aspetta eccolo qua nelle faq qua sopra che me le ero lette tutte da qualche parte chiedevano ecco vedete nft no qua sopra che cos'è concave vedete propagare l'utilizzo di home come reserve currency project by omis for omis on top of home as a primitive e sostanza ecco ha un po a che fare anche col mondo olympus dao e ci sono delle sinergie con redacted perché sul twitter proprio di redacted se andate a scorrerlo un po facciamolo insieme potete vedere come ogni tanto compare ad esempio qui vedete hanno fatto questa cosa insieme vedete ci sono un po di meme ogni tanto che li fanno li buttano in piedi insieme così via quindi ecco vedete qua e quindi io mi aspetto non lo so qualcosa non so che cosa ma qualcosa me lo aspetto avevo letto da qualche parte forse sempre qui ecco quando lancerà nel q1 2022 quindi attenzione perché secondo me questo sarà un evento da seguire poi la speculazione si io ho comprato il cucchiaio perché ti da il retweet il retweet ciao l'air drop del loro token al momento del lancio ma lì è mera speculazione al di là di questo sicuramente varrà la pena seguirlo perché potrebbe essere interessante da un punto di vista proprio di curve wars poi un'altra cosa che vi volevo far vedere intanto l'altra piattaforma che è con chi l'abbiamo visto è curvance curvance in sostanza sarà un money market quindi un una piattaforma di lending e borrowing che avrà come collaterale gli lp token di curve ma non solo anche di convex anche di yarn anche di frax in realtà vi volevo anche far vedere un tweet aspettate che lo vado a tirare fuori perché nei miei liked vabbè a parte le le pirlate in realtà tatatata andiamo giù andiamo giù dov'è qui da qualche parte allora 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 eccolo qua alfa leak questo è saltato fuori dal discord di non so dove in realtà però kendrick lama è uno degli anon più famosi di nel mondo di curve e qualcuno gli aveva chiesto non so perché curve non crea la sua cusd la sua stable coin lasciate che le persone mintino le stable coin la cusd con le loro posizioni di liquidità su curve quindi una sorta di stable coin mintata con collaterale i token lp di curve e lui gli ha risposto beh stai attento ci potrebbe essere una sorpresa e questo mi lascia particolarmente bullish ok particolarmente interessante e tra l'altro vedete che anche loro vogliono creare insomma il creare stable coin collateralizzate anche da parte delle dao è un tema di interesse quindi ricapitolando lato curve wars secondo me si andrà nella direzione di avere sempre più protocolli che competono nelle curve wars e quindi se così sarà gioverà innanzitutto crv e i derivati quindi cvx che ormai è diventato il layer 2 di curve quindi i protocolli competono anche per i cvx e poi a seconda del protocollo che avrà più o meno successo io mi aspetto che avremo comunque dello spazio anche lì per per osservare questo trend crescere e muoversi attenzione anche al tema delle stable coin mintate proprio con collaterale gli lp token quindi quello che adesso fa abracadabra per dirci per capirci sarà fatto anche da altri io mi aspetto che sarà un settore che crescerà poi lato sempre curve wars questo sta si sta estendendo anche su altre chain ad esempio si sta estendendo su phantom non so se avete visto un video vi ho scillato il canale di crypto farm italia che è un un altro canale italiano adesso ve lo ve lo mostro anche perché quando vale la pena vale la pena crypto farm italia eccolo seguitelo perché è assolutamente interessante liquid driver e spirit swap sono un po lo stesso modello di come si chiama di convex curve no però su phantom e la cosa ancora più interessante è che l'ho visto per caso su redacted proprio mi sembrava che fosse non volevo chiudere l'altro l'altro cosa comunque aspettate nella loro governance eccola avevo visto una proposal che poi non so se è andata a buon fine se non se l'è filata nessuno oppure no eccola qua redacted phantom dow partnership proposal dove in sostanza si proponeva che redacted iniziasse ad accumulare anche in spirit che è proprio il token di governance di spirit swap e questi sono un po i benefici no è questo tramite la una partnership con la phantom dow che è un equivalente diciamo di redacted e di queste dow però su phantom io sinceramente questa la vedo ancora come enorme speculazione sicuramente sarà da osservare la crescita di modelli curve wars in cross chain però al momento è ethereum domina ok non c'è paragone tra ethereum e tra le altre chain quindi sicuramente non mi esporrò in questa direzione ma lo seguirò con interesse perché potrebbe essere un trend a tal proposito anche su solana è arrivato tribeca che è una un framework chiamiamolo utile per costruire dow quindi è un servizio grazie al quale si può creare delle dow tipo l'impus dow ok senza programmare da zero ma facendola utilizzando il loro framework è un po un bacchetto no chiave in mano quasi dove tu fai quel poco necessario ti costruisci la tua dow in particolare guardate che abbiamo il vabbè il framework per creare le proposte di governance eccetera eccetera nonché 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 dove sono i vote lock token mi ricordavo che fossero qua eccole qua vedete vote questo è scro program very similar to curve quindi i ve token questo modello dei ve token che anche il modello di in spirit su phantom secondo me è destinato a crescere ce l'ha anche frax con i ve fxs le frax share le frax shares che sono quelle per partecipare alla governance e molti protocolli defi secondo me ma non solo secondo me perché è un po' un'opinione comune adotteranno questo modello di ve token magari anche sushi chi lo sa vedremo per ridarsi un po vita no nel senso avete visto che i grafici di molti protocolli defi sono un attimino spenti soprattutto gli old no i primi defi e quindi questo potrà creare i gouge quindi il modello proprio come curve no con le ricompense distribuite con la votazione col token lockato il vuoto che ne eccetera potrebbe secondo molti dare un po un respiro di di questo tipo e io erne ha fatto una cosa simile recentemente il prezzo ha reagito molto bene e se ciò accade sempre facendo le nostre belle speculazioni convex ne gioverebbe perché potrebbe implementare estendersi a tutti questi protocolli per appunto estendere la sua influenza convex al momento non è cross chain è esclusivamente su ethereum e anche lì io mi chiedo cosa sta aspettando comunque queste erano giusto le le novità lato curve wars di altro in realtà vi volevo parlare di risk arbor che insomma il nostro famoso ozon che ha lanciato è l'assicurazione su anchor è già stata spazzata via guardate 10 milioni tutti spazzati via completamente è sold out rimangono 0 77 dollari disponibili in sostanza è direttamente su terra che è una figata e si può acquistare una protezione sulla posizione di anchor quindi si dice quanto si può si vuole proteggere in aust adesso chiaramente non c'è più non ti fa vedere il premium perché è tutto esaurito però è al 2 per cento il premium è il 2 per cento al momento però protegge soltanto dai rischi del protocollo non c'è protezione dal depeg di ust il pagamento viene fatto in ust e quindi chiaramente dipende da quello se ust non perde il peg si mantiene il valore del capitale stesso interessante perché finalmente è su terra quindi non c'è più da usare un'assicurazione su etereo ma su altre chain per proteggere la propria posizione su anchor un'altra novità nel mondo terra da kugira sarà il l'arrivo di aust come liquidità per poter biddare sul collaterale a sconto sapete che si può usare kugira per fare le liquidazioni nel sempre in anchor quindi quando il prezzo dampa in sostanza con kugira se si è bidder si riesce a fare da liquidatori e quindi si ottiene beth o biluna sconto e al momento si doveva biddare con ust quindi tu hai mille ust li metti lì e li vincoli lì e se c'è questo dump che arriva a filare l'ordine a eseguire l'ordine al tuo sconto quindi se tu hai scelto il 5 per cento di sconto prima eseguirà l'uno due tre quattro e poi il tuo e se arriva il tuo tu ottieni l'una in sconto e al momento e in futuro scusa al momento si può fare solo con ust in futuro anche con a ust il che vuol dire figata pazzesca che mettendo in collaterale a ust quindi ust a rendita che nel frattempo rendono si può nel frattempo partecipare al a questo mercato di liquidazione è veramente pazzesco è una una bomba un must have un must do anzi per chi è interessato a ad accumulare dei luna o degli eth un ultimo trend che secondo me dominerà dominerà magari no ma sarà sicuramente chiacchierato nel 2022 riguarderà cosmos allora io vi consiglio questo questo video perché parla dei cambiamenti delle tokenomics in in cosmos quindi di atom in particolare sapete che la sua debolezza è proprio la tokenomics al momento cioè atom a cosa serve alla classica domanda e qua viene spiegato bene quello che cambierà nell'anno 2022 è un'ora e mezza però va via abbastanza velocemente è molto interessante fa vedere i principali progetti e io personalmente credo che inizierò a parlare molto di cosmos e dei progetti su cosmos nell'anno 2022 perché ripeto credo ne varrà la pena quantomeno conoscerli è una chain di cui si parla poco di cui noi abbiamo sempre parlato poco ma è il momento di cambiare le cose e quindi state sul pezzo perché parleremo molto anche del mondo cosmos state tranquilli che non ve lo faccio perdere e trascurare perché quando qualcosa ha valore sapete che qui lo troverete e se ne parlerà a dovere bene amici questo direi che è quanto perché il resto dei grafici non ha nulla di particolare da esprimere bitcoin qui sul daily non dice nulla di che atom sembra aver rotto la w la famigerata w geneticamente modificata vediamo perché ripeto il 2022 per atom potrebbe regalare soddisfazioni phantom anche lui è bello carico layer 1 e layer 2 sinceramente a patto che abbiano sempre un largo utilizzo mi aspetto che abbiano sempre comunque una crescita del loro valore fondamentale e quindi quella un trend che non si esaurisce ma come quello in generale della defi sono quelle cose che per cui si va sul sicuro sono più scettico invece su metaversi nft lo sapete secondo me lì siamo un attimino in bolla in zona di top ma magari non è così insomma io lo penso non perché non credo nel loro futuro io sono convintissimo che il futuro va in quella direzione ma al momento sono un attimino super hypati e quindi io mi concentrerò principalmente su altro vediamo poi che cosa l'anno sarà lungo di cose da dire ce ne saranno tante ma ragazzi noi saremo sempre sul pezzo io vi auguro di nuovo un buon anno il meglio vi auguro il meglio per questo 2022 spero che questo 2021 vi abbia portato soddisfazioni e risultati e spero anche un po grazie a me ve lo dico però a me fa soltanto piacere e noi continueremo essere sempre sul pezzo e puntare sempre più in alto anche nell'anno che verrà amici scappo che mi aspetta una serata impegnativa vi faccio un carissimo saluto e alla prossima all'anno prossimo o meglio ciao a tutti